Porca c***a, porca, porca c***a, ma non riusciamo a vincere una volta, almeno una, una volta, Cristo, una volta non riusciamo a vincere, puttana Eva, siamo dei cadaveri putrefatti, dei cadaveri putrefatti, non ce la faccio più con sta squadra di merda, porca c***a. Oh, allora, io ho visto solo il secondo tempo, perché prima non ho potuto, ero lavoro, ma quel merda di secondo tempo che ho visto, allora Calabria io non ho capito, ma che c***o l'ha messo a fare Calabria al posto di Conti, che non sta in campo neanche, con sto c***o di braccio tatuato, figa, ma impara a giocare a calcio, non a farti i tatuaggi, porca c***a, min***a, una roba incredibile, guarda, una roba incredibile. Poi quell'altro lì che si, arriva il cross, sta lì a guardarlo, c***o, con la maschera già di Halloween lì, da solo, pum, con la maschera l'ha messa dentro, ma porca miseria, che c***o di partita di merda, Dio mio, Dio mio, una cosa incredibile, non riusciamo a farne una, non riusciamo a farne una giusta. Vabbè, amici, non so neri e non, io non so il vostro stato d'animo, ma il mio è uno stato d'animo proprio di merda, perché non è possibile, non è possibile fare una partita del genere. Quelli erano tutti incerrottati, tutti scassati, quello che gioca con la maschera, quell'altro che aveva i c***i suoi, no, neanche così, non riusciamo a sfruttare neanche le occasioni minime per portare a casa un risultato di merda, neanche un punto, neanche un punto. E' una cosa, è una cosa pazzesca, è una cosa che io non riesco più a tollerare. Pioli, ma che c***o, poi, poi, quel c***o di biglia, ma cosa lo metti a fare se poi lo cambi con Benassero? Ma provala da inizio con la formazione qua, no? Non puoi provala da inizio con Benassero e lasciar fuori quello lì che sembra che c'ha la palla al piede quando corre. Mica c'ha la novo che deve fare la convergenza, il piedeo, tutti i tiri che fa sono sempre fuori di 10 centimetri, 20 centimetri un metro, sempre fuori, tutti i tiri sono tutti fuori. Bel tiro, bello ongolato, bella parabolica, tutti fuori, tutti fuori. C***o a drizza sto piede, no? Tira là dentro sta c***o di palla. Calabria deve giocare in Serie C, non il Milan, deve giocare in Serie C, il Calabria deve giocare in Serie C, perché è un c***o di p***e, è un c***o di p***e. Parca miseria. 10 punti abbiamo, 10 punti. Vabbè ragazzi, ciao dai, vado a farmi una birra, forse è meglio. Ciao, alla prossima.